insomma non ci puoi andare forse ne hai capito una sola totale acqua acqua fresca è meglio che ti avevo detto che mi avevi detto? già che ti avevo detto? che cazzo mi avevi detto? che piavi una sola totale acqua come facevo a sapere? ah c'è dai perché non ci provi? sta là sul lungomero a aspettare il pappone provi ce n'ho fatto ridare questi soldi se fanno uno schizzo insieme oh mezza piaotta che mi faccio ridare? ma lei c'hai paura del pappone? si c'ho paura del pappone quella è una mezza figura non esiste proprio qua no mi farò del cuore il fatto che pia le sole e poi mi chiami a me io dovevo rimediare ehi baby quando hai bisogno di me fammi un fisco vabbè non fa niente ma che gli dovrei fare secondo te? che faccio? vado là gli tiro il collo meno a lui che devo fare? dimmi te che vuoi che gli faccio? io ci vado grazie a tutti